Mamma mia, quando tu mi coprivi se avevo freddo, mi nutrivi se avevo fame, mi confortavi quando piangevo, mi trastullavi quando m'annoiavo, quando vegliavi le notti per me e il giorno ti preoccupavi per me, dimmi allora, facevi questo come una bambina fa con la sua bambola, che può ripetere senza fine ogni giorno lo stesso gioco, facevi questo come un'infermiera o una bambinaia che lo fa come lavoro quotidiano di tutta la sua vita, dando sempre le sue cure via via a nuovi infermi e nuovi bambini, o lo facevi come la mia mamma e mi nutrivi e mi riparavi e mi curavi perché ti crescessi forte e sano, perché nella piccola, tenera, stupida cosa, bisognosa di tutto, priva di difesa e di sicurezza, di fronte al più piccolo caso tu sognavi l'uomo, l'uomo forte, sicuro in sé di fronte a ogni cosa, che non ha più bisogno d'alcuna cosa, che egli non sappia, che egli non possa, sano così che niente lo debba preoccupare. Tu allora non giocavi alla mamma, ma eri veramente mamma e il dolce sapore che avevano per te tutte le piccole cure, le sofferenze, i sacrifici, era questa lontana speranza, era questa visione lontana dell'uomo che ti doveva germogliare dalla tua fragile creatura. Tu non mi curavi per potermi curare ancora in futuro, non mi curavi con la speranza che io per te rimanessi eternamente fragile e impotente oggetto di cure, ma anzi per non aver più da curarmi, perché io non avessi più bisogno che nessuno mi curi. Per questo hai sofferto, hai sperato per me. Così mi hai cresciuto, mi hai fatto forte, più forse di quanto speravi, mi hai dato tutto quanto potevi darmi, che di cure e d'aiuto da una persona a un'altra si può dare. Ma per noi, mamma, ora incomincia la vita. Ora io potrò camminare sulle mie gambe. Ora tu avrai frutti del tuo lungo soffrire, del tuo lungo sperare. Ora non amerai più in me il futuro incerto da curare e assicurare con la tua pena e la tua preoccupazione, ma il presente vivo per se stesso, che niente può togliere, nemmeno la morte. Questo presente è quello che io faccio, è quello che io sono nella mia opera ad ogni giorno. Non è più tempo che io chieda agli altri cose buone, cose dolci, l'approvazione, la lode, i premi. Non è più tempo che tu ti preoccupi per me, come se ancora io dovessi crescere e prepararmi, né che guardi ansiosa negli occhi degli altri, il giudizio e la stima che fanno di me, come quando mi mettevi un vestito nuovo. E la gente diceva, che bel ragazzo, come viene su forte. E tu godevi, perché pensavi a quanto ancora sarei cresciuto. Ora è tempo che io agisca. Ora è tempo che tu riceva e che io dia, che io per la mia forza riempia la tua speranza, che ti sia per la mia azione, per le mie opere, veramente l'uomo che hai sognato. Ma in ogni modo, mamma, la fine è vicina ed è vicina all'alba della mia vita. Presto, come da una serie di incubi, io esco al sole a operare seriamente. Tu guardi gli altri giovani che sono al caffè con le loro famiglie e pensi a me con tristezza. No, non pensare a me con tristezza. Essi hanno vuota la vita e l'avranno sempre vuota e la riempiono delle preoccupazioni per la carriera data dagli altri. La riempiono di vani piaceri che lasciano loro la bocca amara. Stirano la loro noia attraverso tutti gli anni e tutti i giorni della loro vita, attraverso i loro lavori oscuri e insensati, i loro piaceri insipidi, le loro relazioni familiari o d'amicizia o di patria ottuse e vuote. Io ho qualche cosa da fare a questo mondo. So quello che voglio fare. Non è né tempo né bisogno di preoccuparmi di ciò. Onde essi si fingono una vita sufficiente, soffrono tutti gli istanti, anche se sembrino lieti e se la bocca rida. Ora sono soltanto in apparenza. Ma se anche fossi solo del tutto, la mia solitudine sarebbe più ricca del loro accompagnarsi. Ora vi sono vicino, ma se anche vi fossi lontano vi sarei più vicino che quei giovani alle loro famiglie insieme alle quali si annoiano. Perché io so come si può avere qualche cosa nella vita, come si può essere uomini. So che non si può attendere questo dagli altri, né chiederlo in nessuna delle situazioni preparate, ma che sta in me, alla rettitudine della vita, nel fare tutto, nell'aver la forza, di vivere la propria vita, la condizione unica per avere qualcosa e per essere qualcuno. E non si può dar niente a nessuno. Non si può essere niente per nessuno se non sa, se non si è per se stessi. Io so cosa devo fare per poter essere qualche cosa per te, per voi, per gli amici, per tutti gli altri. E in questo sono sicuro e tranquillo. Perché mentre gli altri si fanno illusioni sulle cose o sulle persone e da queste dipendono, io so che non ho da attendermi niente da nessuno. Perciò non ho niente da temere dalla vita, niente mi può cambiare, niente mi può fermare. Quando farò qualche cosa per me sarà anche per te. Tu mi sarai sempre vicina nella mia via, anche se saremo separati. Tu saprai tutto di me e potrai vedere come riesco a far vivere quello che mi sta sul cuore, a portare a maturità così che a tutti apparisca matura quella vita che tu hai partorito e curato. E invece delle cure mi darai solo il tuo affetto e la tua fiducia. Come un mese fa quando ti leggevo sotto il castagno. Pensa mamma alla tristezza, se stanco e sfiduciato, adattato alla qualunque convenienza, col sorriso amaro e la sigaretta sulle labbra, io ti chiedessi il rifugio delle cure e le carezze che mi davi quando ero bambino. E pensa alla gioia che tu mi dai ora se io posso parlarti così come ti parlo. Grazie.